ed eccoci a piazza del popolo ci siamo è passato il volumero no, è partita Billie Jean, mi pare giusto vogliamo fare una ripresa in 3D da Michael Jackson? vai vai volendo volendo? dai proviamo no, è l'applicato non avendo non so non è proprio il tempo io e l'applicato 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 no non so l'applicato l'applicato no c'è un po' l'applicato non so l'applicato c'è un po' devo che sc Grazie a tutti 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 Buongiorno